L'immagine di questo convegno è una tappa della nostra storia, l'orma del primo uomo sulla Luna. Esattamente 50 anni fa il primo uomo metteva piede sulla Luna. È di oggi la notizia che la prima missione interamente femminile ha messo piede sulla Luna. Ma è soprattutto la fotografia di una società, quella che accettava ogni sfida in nome del progresso e si sentiva senza limiti. Tanto da varcare la soglia dello spazio, la più lontana. È di questo oggi che sentiamo purtroppo la mancanza, un sentimento di invincibilità collettiva che ci spinga ad osare individualmente. Oggi abbiamo il compito di costruire quel grande sogno che rimarrà irrealizzabile solo fino a quando non sarà compiuto. Lo sbarco sulla Luna del nostro tempo è una missione da campioni. Siamo un po' più enfatici oggi, perdonateci, rispetto al solito perché è l'ultimo convegno di questa Presidenza. Un po' di malinconia, sì, è la grande responsabilità di aprire le porte a chi verrà dopo di noi. Questi tre anni sono state delle pagine davvero intense per il nostro Paese. Siamo passati da una crescita, per quanto contenuta, allo zero assoluto o allo zero virgola, come a qualcuno piace scrivere. Da istituzioni presenti a istituzioni assenti ingiustificate. Non parliamo solo dei nostri convegni, ai quali magari con delle tempistiche forse troppo brevi annullano i propri impegni in cambio di altri. Su quello ci siamo abituati, ci piacerebbe un po' più di rispetto forse per una classe produttiva che è vero che è under 40 ma porta avanti il nostro e il loro Paese, nonostante tutto quello che possono fare contro di noi. Il 5 maggio... questo è un applauso che non avrei mai voluto prendere, credetemi purtroppo però, visto che è venuto spontaneo. Il 5 maggio del 2017, quando è iniziata proprio questa presidenza, la prima pagina del Sole 24 ore, vedo il direttore Tamburini in sala, era sulla conciliazione fiscale di Google con l'Italia per 306 milioni di euro. Si leggeva di Brexit che spingeva gli investitori a lasciare il Regno Unito e di Alitalia in vendita. Fisco, Brexit e Alitalia potrebbe essere la prima pagina del Sole di oggi. Ci sentiamo frustrati nel dover continuamente affrontare gli stessi problemi da soli. Ma non ci sentiamo impotenti perché se non ce la fanno le forze della politica a cambiare questo Paese, devono farcela le forze dell'industria. Noi che il lavoro lo creiamo, non ci fermiamo davanti a chi ha provato a confondere le politiche per il lavoro con dei sussidi mal congegnati a reddito. Noi che non vogliamo un'Italia spopolata, i giovani li vogliamo assumere e li vogliamo assumere a tutti i costi. Nella Nadef, la nota di aggiornamento economia e finanza, due righe ci colpiscono. Nel periodo 2007-2018 il prodotto interno lordo pro capite italiano si è contratto del 7%, mentre nell'area euro, nello stesso periodo, questo è cresciuto del 5,5%. Non c'è manovra economica che possa risarcirci di questo impoverimento lento e costante, mentre tutta l'Europa cresceva. E da quel 2007 al 2018 quanti governi sono passati? Ve li ricordate? Sei. Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte. Sei governi in dieci anni. Anche con le migliori delle intenzioni, sei governi non possono mettere in atto politiche di crescita efficaci. Sarebbe come cambiare management in un'azienda ogni due anni. Non si va da nessuna parte. Mentre il Paese si sgretolava, noi continuavamo a studiare, entravamo nelle imprese e ne creavamo delle nuove. Ancora oggi, nelle nostre fabbriche, si tornisce l'Italia inarrestabile. Quella che al consenso elettorale antepone il collante sociale. Abbiamo imparato che ciò che accade nei nostri capannoni sono fenomeni globali. E se noi siamo chiamati ad essere imprenditori responsabili delle nostre azioni a livello planetario, lo stesso devono farlo anche i nostri politici. Viviamo in un momento storico in cui ogni euro speso acquisisce un valore nella più grande borsa mondiale, quella dei valori etici, ambientali e sociali. Questo dovrebbe valere altrettanto anche per il capitale reputazionale della politica e delle nostre istituzioni ancora di più. I vostri like su Facebook, i vostri mi piace dovrebbero conventirsi in atti di lungimiranza e non in risposte ai click del momento. Noi lavoriamo da anni per essere più sostenibili e con la digitalizzazione già stiamo facendo molto di più con meno risorse. Possiamo aspirare ad essere i propulsori di un nuovo sistema produttivo. Anche le Nazioni Unite ci riconoscono come un Paese campione di sostenibilità. Prendiamoci sul serio e facciamo in modo che l'industria consapevole sia il nuovo made in Italy. Oggi anche se chiediamo a un contabile del Michigan che cosa è il made in Italy, per lui significa bellezza italiana, è il calore e la creatività del nostro popolo, è il profumo dei 300 tipi di pane italiano, è la nostra storia fatta di poeti, santi, papi, condottieri e imperatori romani, è la magnificenza della nostra manifattura. A queste tre parole made in Italy impariamo ad aggiungere oggi anche un inconfondibile perimetro di valori etici, sostenibilità e responsabilità. Siamo già pronti a fare del Green New Deal la nostra strategia industriale. E voi che ci governate siete pronti? Speriamo di sì. Per noi l'unica strada percorribile è il capitalismo consapevole. Lo abbiamo detto più volte. Per noi non ci sono fonti fossili da sprecare, terra da consumare, aria pulita da inquinare. Per noi è consapevole un sistema economico che cresce portando tutti con sé. Siamo un Paese con poche materie prime, lo sappiamo, e abbiamo imparato a farne un utilizzo ottimale. Per questo già tra i campioni dell'economia circolare c'è il nostro Paese. L'Italia è campione nell'economia circolare, sì. Cerchiamo di non diventare però campioni di autolesionismo. Apprendiamo dai giornali che vi siete ravveduti sul tassare gli imballaggi riciclati, forse era stata una svista, fa caldo ancora, ma che per quelli in plastica la tassazione aumenterà. Aumenterà di un euro al chilo. E se è vero che un chilo di plastica costa un euro e venti, allora è come raddoppiarne il suo costo. Rendiamoci conto di quello che state preparando. Questa tassa serve solo per fare cassa. In Italia l'abbiamo inventata noi la plastica, con il premio Nobel Giulio Natta. E sempre in Italia l'abbiamo reinventata con la bioplastica della Novamont. E oggi, sempre noi italiani, guidiamo la ricerca sul riciclo di questa plastica. Un esempio è la Myri-Technimon, che con la sua tecnologia innovativa Myri-Plast, un impianto in cui entrano circa mille tonnellate al giorno di rifiuti, di cui se ne rigenerano il 95%. L'Italia produce il 14% della plastica europea. Per riciclarla tutta ne servirebbero solo 24 di questi impianti e avremmo risolto il problema italiano della plastica. La fotografia del futuro invece è chiara. Entro il 2050 il 60% della produzione verrà da fonti rinnovabili e lo confermano anche gli investimenti sempre maggiori in questo settore. La transizione passa dall'economia, finanza sostenibile, cambiamento dei consumi, circular economy, ma non può fare a meno della politica. E quindi questo Green New Deal deve spingere in questa direzione. Non abbiamo bisogno di altri incentivi per comprare pannelli fotovoltaici che vengono prodotti in Cina e quindi il nostro prodotto interno lordo non ne ha mai beneficiato. Ci serve un cambio di paradigma a partire dai ministeri che scriveranno queste norme. Sono bloccati nei vostri cassetti ormai da troppi anni ben 13 regolamenti ambientali. Per citarne sono alcuni il riciclo dei pneumatici, i rifiuti dello spazzamento stradale, le ceneri da alto forno, le plastiche miste e gli oli alimentari esausti. E se negli Stati Uniti investono in shale oil, in shale gas, l'Italia investe su smart grid e mobilità sostenibile. Noi abbiamo le caratteristiche geografiche per farlo. Ora serve l'infrastruttura. Possiamo diventare un punto di riferimento a livello globale. In queste ore si svolge il tavolo dell'automotive, convocato dal ministro Patuanelli, motivo per cui non è oggi qui con noi. Caro ministro, ora o mai più, dobbiamo trasformare la crisi del settore automotive in un'opportunità di crescita. E se la mobilità del futuro è sostenibile, bisogna creare da subito un mercato che restituisca ricchezza a tutto il paese, libero e accessibile, anche alle piccole e medie aziende. Magari con il traino dei big players che avranno il compito di spianare loro la strada. Siamo contenti che questo New Deal sia green, davvero. Ma vorremmo che fosse anche young, giovane. L'Italia corre il rischio di spegnere le proprie imprese e non perché queste inquinano, ma perché non ci saranno nuove generazioni a portarle avanti o ad avviarle. Oggi le imprese guidate da giovani under 35 sono quasi 450 mila, l'8,8% del tessuto imprenditoriale italiano. Il nostro New Deal deve essere ambizioso. Proviamo a raddoppiare insieme questa cifra in cinque anni. Noi faremo la vostra parte. Ed ecco la nostra scommessa. Proviamo a diventare campioni di nuove imprese. Nei giorni passati si è molto discusso del voto ai sedicenni. Non sappiamo con quale obiettivo la politica abbia proposto questa ipotesi, ma giusto o sbagliato noi crediamo che in un Paese che invecchia diventi una questione fondamentale dare responsabilità ai più giovani. Però con un messaggio concreto. Ragazzi, questa Italia è vostra. Iniziate il prima possibile a progettarla. E quindi, magari prima del voto ai sedicenni, noi diciamo sedicenni nelle imprese, con l'alternanza scuola-lavoro, per imparare a conoscere il mondo anche dalla prospettiva del lavoro e dell'economia. E questa non è una proposta per i figli degli imprenditori che dentro le aziende ci vanno, anche quando sono bambini. Questa è una proposta per il Paese. Entrare nelle imprese significa iniziare ad assimilare cos'è un mestiere, ma soprattutto imparare a conoscere che significa responsabilità, rischio e sacrificio. Forse ci dovremmo ricordare tutti quanti un po' della responsabilità e del sacrificio. L'articolo 1 della nostra Costituzione ci insegna che non c'è niente di più vitale per la nostra Repubblica del lavoro e della sua dignità. L'alternanza scuola-lavoro, quindi, si trasformi da subito in una vera e propria palestra costituzionale del più sacro diritto dovere dei cittadini. È proprio in nome di questa palestra che il reddito di cittadinanza non ci è mai piaciuto, perché la dignità non sta nel reddito, ma nel lavoro che lo genera. Noi vogliamo gli studenti nelle imprese e ringraziamo la Regione Toscana, purtroppo ad oggi l'unica in Italia che ha investito i propri fondi per coprire i tagli fatti dai ministeri. I fondi servono anche per potenziare gli ITS e farli diventare allenatori dei nostri futuri talenti italiani. Coltivare la mentalità imprenditoriale, avere un'idea di impresa in Italia però non basta. Una soluzione la fornisce Invitalia, che ha costruito un programma dedicato a donne e under 35 e ha già finanziato oltre 500 iniziative, creando così 2.500 posti di lavoro. Ma altre soluzioni sono possibili. Una volta nate, le nostre giovani imprese, le nostre start-up devono poter crescere e competere nel ring globale, ma non come pesi piuma. Noi ci aspettiamo che queste competano come pesi massimi e quindi per questo occorre attivare un flusso stabile di capitali pazienti da investitori istituzionali. Mi riferisco in particolare ai fondi pensione e alle casse di previdenza, che ancora oggi investono poco nel sistema produttivo nazionale e soprattutto che dedicano una quota marginale dei loro patrimoni in asset alternativi illiquidi come fondi di private equity, venture capital e private debt. Lo stesso vale per le fondazioni bancarie, alle quali va comunque riconosciuto il loro importante ruolo a sostegno di crescita e formazione giovanile. Fondi pensioni e casse di previdenza hanno una esenzione totale di imposta sui rendimenti degli investimenti, con un tetto però al 10% del loro patrimonio. Se aumentassimo gli investimenti in progetti di imprese giovani e piccole, quotate e non quotate, anche solo di un 2% aggiuntivo alle nostre aziende arriverebbero oltre 5 miliardi di euro. Quindi per incentivare gli investitori istituzionali basterebbe aumentare il tetto della defiscalizzazione. Questo consentirebbe loro di diventare un vero e proprio moltiplicatore di idee imprenditoriali, con un ritorno ai territori e alle comunità e di puntare sui giovani creando un'alleanza virtuosa con un obiettivo economico e sociale. Non pensate quindi di abbassare questo tetto, alziamolo magari. La pubblica amministrazione oggi spende per beni e servizi oltre 140 miliardi ogni anno. È un settore di mercato con poco ricambio generazionale. Quindi aprire una porta al turnover con aziende giovani, magari rivedendo i requisiti di accesso, sarebbe una prima vera misura di inclusione. Si tratterebbe di una operazione a costo zero per lo Stato, ma a saldo positivo. E c'è di più. C'è bisogno di un public procurement innovativo, con una prospettiva tutta nuova stavolta, che non si focalizzi nel trovare sempre le stesse risposte, ma che impari ad adottare soluzioni alternative. Invece di reiterare per decenni le richieste di prodotti esistenti, la pubblica amministrazione potrebbe stimolare la ricerca e innovazione, chiarendo qual è l'esigenza da risolvere e aprendo le gare a tutti quelli che hanno una soluzione innovativa e magari anche più economica. Una vera e propria call for ideas. Sono nostre le imprese che portano idee disruptive. Siamo noi gli start-upper, è la nostra generazione che può realizzare la pubblica amministrazione 4.0 e provocare una vera e propria spending review. Questa però fatta con le sole forbici dell'innovazione stavolta. Forse questa ci riuscirà. Essere campioni, come vedete, è una questione di prospettive. Spesso è una questione di prospettive. Noi guardiamo ai prossimi vent'anni, lo fanno tutti gli imprenditori. Per questo non ci basta chi fa programmi elettorali e di governo che guardano solamente alle prossime elezioni. È una gara tra chi costruisce un'azienda con l'idea di tramandarla ai propri figli e chi accumula consenso elettorale per dominare il dibattito nelle successive 24 ore. Come è stato d'altronde nell'ultimo anno? Il primo banco di prova di questo secondo governo Conte per mostrare di essere davvero diverso è quindi la legge di bilancio. Le imprese, come sanno tutti quelli in sala, non approvano i bilanci salvo intese, non assumono i propri collaboratori salvo intese, non investono i propri capitali salvo intese e ci saremmo aspettati più coraggio perché il nostro Paese non può ripartire salvo intese. C'è stata una estenuante contrattazione per risolvere il problema delle coperture. Secondo il MEF la sola fatturazione elettronica farà recuperare 5 miliardi di euro nel 2019. Confindustria è stata l'unica associazione che l'ha supportata nonostante questo abbia generato nuovi oneri tutti a carico delle imprese. Abbiamo fatto bene però perché se oggi possiamo contare su quel tesoretto miliardario il nostro Paese, il nostro Governo può utilizzare quel tesoretto miliardario è grazie anche all'impegno delle nostre aziende. L'evasione si combatte con severità. Ultimamente è su tutti i giornali, si combatte con severità, proporzionalità e anche ragionevolezza. L'evasione danneggia la collettività ma con il solo inasprimento delle pene non si estirpa culturalmente né si produrrà più gettito. Le due cose si ottengono solo con una giusta proporzione tra la gravità della violazione e la sanzione e senza calpestare le basilari esigenze di certezza del diritto, certezza del diritto che nel nostro Paese è spesso sconosciuta. E ogni giorno purtroppo è sempre la stessa storia. Non vorremmo però ritrovarci proprio qui l'anno prossimo con una nuova Presidenza, sì, ma fare la conta delle imprese che hanno visto compromessa la loro reputazione o peggio ancora la propria attività sulla base di interpretazioni estensive delle nuove norme, di misure cautelari, applicate e poi magari smentite in giudizio. Come la buona fiscalità si fa con il rispetto delle regole, così anche la buona politica si fa e si dovrebbe fare senza inutili proclami. Una legge di bilancio rivoluzionaria sarebbe stata quella che avrebbe consentito di abbattere l'evasione fiscale agganciandola a comportamenti virtuosi, come quelli che invitano le persone a farsi fare lo scontrino. Più documentazione significa meno evasione. Potremmo però passare dalla detrazione alla deduzione delle spese per facilitare così le fasce di reddito più basse, privilegiando chi mette in circolo tutto il proprio reddito. Non dimentichiamo che le clausole di salvaguardia, che hanno occupato tutte le pagine dei nostri giornali negli ultimi mesi, torneranno comunque a farci discutere anche nel 2021. E anche in quel caso, mi dispiace, ma non basteranno le copertine finanziarie, le coperture fatte con le bibide, con le bevande zuccherate e con le merendine dei nostri figli. Una legge di bilancio che punta gli occhi sul futuro deve guardare anche alle donne. E se in Italia c'è una disoccupazione femminile troppo alta, accettiamola questa sfida. Il Governo si impegni con noi a rovesciare le statistiche, a partire dal tasso di occupazione delle donne under 35. Una legge di bilancio coraggiosa non si accontenta di 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale. Lo avevamo chiesto noi l'anno scorso, in favore dei lavoratori, sì, ma 3 miliardi sono pochi. Perché se in Italia la domanda interna non cresce è anche perché nelle buste paga degli italiani c'è un carico fiscale da record. Invece di perdere tempo con il taglio dei parlamentari sarebbe meglio dedicarlo a cose più importanti e più utili come il taglio del cuneo fiscale. Perché il risparmio sul taglio dei parlamentari lo abbiamo già messo in Alitalia, quindi non ci sarà questo risparmio. E a proposito di tagli, i conti pubblici italiani si potrebbero rinvigorire anche con una bella sforbiciata a quelle oltre 7 mila società partecipate, partendo proprio da quelle che dovrebbero chiudere i battenti perché senza dipendenti o con una grave situazione finanziaria o semplicemente perché inutili, perché sono dei doppioni. Cosa ce ne facciamo di una società partecipata con più amministratori e dipendenti? Se sono inefficienti chiudiamole. Speriamo che depositino i bilanci perché qualcuno non deposita i bilanci per non far vedere che sono da tre anni in perdita. Se non per risparmiare almeno facciamolo per dignità. Anche in questa legge di bilancio i fondamentali sono garantiti dal traino dell'export fatto dalle nostre aziende che nel 2019 crescerà del 2,6% e questo nonostante la frenata del commercio mondiale. Nel 2018 l'Italia ha scambiato merci con l'estero per 890 miliardi di euro e lo ha fatto da campioni di corsa ad ostacoli perché abbiamo un costo del lavoro più alto, abbiamo un costo dell'energia più alto, abbiamo un peso del fisco più alto e spendiamo ogni anno 57 miliardi per fare le pratiche burocratiche. Non è possibile, ma si può contare sempre sulla nostra resistenza, dico io? La risposta sono sicuro che no, speriamo che arrivi. Ora più che mai mi servirebbe rimuovere però tutti questi ostacoli per cercare di tenere questo Paese in piedi ripartendo da chi fa impresa, per non creare un Paese a due velocità. Ripartiamo dal mezzogiorno, ripartiamo da qui, dall'area del Paese che oggi è più giovane, che deve invertire questa tendenza perché fra 50 anni questa sarà la zona più vecchia e spopolata d'Italia. Le regioni medidionali hanno una percentuale di NIT del 33,8%, una disoccupazione giovanile al 51,9% e un'occupazione ferma al 43%. Nella sola Sicilia il prodotto interno lordo generato dal manifatturiero è sceso all'8%, mentre in Lombardia lo stesso prodotto interno lordo è al 23%. Questa è una condanna che ha molti autori, sì, ma noi vogliamo che la soluzione sia una sola, un piano di sviluppo che non tratti il Sud come una malattia endemica del Paese ma una opportunità nazionale di riscatto. La nostra ricetta è chiara e punta su due fattori, impresa e lavoro. Le nostre imprese combattono una battaglia solitaria però, senza infrastrutture, senza collegamenti e senza giovani. Le nostre imprese del Sud meritano il podio olimpico di corsa contro vento. Per riprendere competitività il Sud deve premiare chi assume e chi investe con il credito d'imposta, collegare i porti e i retroporti e le infrastrutture e collegare il Sud al resto d'Europa. Un Sud dove la pubblica amministrazione sa attuare politiche di sviluppo e garantire i livelli essenziali delle prestazioni nei servizi. E se questa pubblica amministrazione non c'è, allora mettiamola in piedi, magari utilizzando finalmente quei fondi europei che ancora, dopo tanti anni, non abbiamo imparato a spendere. Anche perché, se non è presente lo Stato, finisce per esserlo la criminalità organizzata. Un Sud dove gli investitori internazionali tornano a scommettere, come ArcelorMittal, che vorrebbe fare di Ilva un vero e proprio esempio per il futuro del Mezzogiorno, ma continua a sbattere contro le mille giravolte di questo Governo. Se c'è uno scudo utile è quello con cui difendere la riconversione industriale di Taranto, non quello che la impedisce e fa scappare tutti gli investitori internazionali. E l'Ilva e Taranto non sono un caso isolato purtroppo, perché un Sud è questione nazionale, ce l'abbiamo anche qui, perché il domani di Whirlpool e dei suoi lavoratori e le loro 400 famiglie, tanto per ricordarlo, sono una pagina della storia italiana, non possono essere relegati nella cronaca locale. Per questo noi, giovani imprenditori, siamo pronti a metterci al lavoro con il Governo, sempre se lo vorrà, per trovare da oggi una soluzione concreta e di lungo periodo. Lo sappiamo bene che questa è una storia di globalizzazione e nonostante tutto crediamo sia comunque meglio governare un mondo globalizzato che un mondo ad un passo dalla guerra commerciale. E a chi pensava che bastasse occuparsi del proprio piccolo Eden e ai sovranisti che hanno governato il nostro Paese come se fosse un affare di condominio? È finalmente suonata la sveglia. I dazi Boeing e Airbus si aggiungono all'ormai conclamato unilateralismo e quelli sulle auto farebbero naufragare definitivamente ogni ipotesi di accordo transatlantico con conseguenze pesantissime su entrambe le sponde dell'oceano. La nuova Commissione europea parte quindi da una posizione molto debole. Serve un cambio di marcia rapido, immediato, altrimenti dal 16 novembre Trump potrebbe far scattare i dazi al 25%. La soluzione è una sola, un'Europa forte che tuteli l'export europeo e si dia la priorità di riformare il sistema multilaterale insieme agli Stati Uniti, costruendo regole uniformi e condivise anche dalle economie emergenti. Un'Europa forte è quella che mette fine al dumping salariale tra Stati, con l'istituzione finalmente di un minimo salariale europeo, che non è il salario minimo in salsa italiana, non è quello che propongono le nostre istituzioni, è una cosa ben diversa. Un'Europa forte è quella che fa la voce grossa anche con i paesi che si arricchiscono sulle spalle fiscali degli altri. Per quanto tempo ancora possiamo accettare che Irlanda, Olanda e Lussemburgo siano i più grandi paradisi fiscali europei? Dedichiamo un momento al nostro europeismo. Noi siamo europeisti che tifano per gli azzurri, quello lo rimarremo sempre. Ma lasciatemi dire, cara Brexit, purtroppo e per fortuna sei un fallimento. Ieri è stato chiuso l'accordo per l'uscita del Regno Unito, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che domani dovrà essere ratificato dal Parlamento inglese. Per avere un indizio di come andrà vi basterebbe aprire, come magari avete fatto, i nostri quotidiani. In questi giorni nei nostri quotidiani troverete pagine intere che invitano aziende italiane ad investire in Inghilterra. E stavolta non sono pagate dalle aziende di consulenza, come qualcuno potrebbe pensare, ma sono pagate dal governo britannico. Un'Europa forte è anche quella che pratica e richiede commercio libero e responsabile e tutto ciò che serve per preservarlo. Oggi, tra le 40 aziende più grandi del mondo, solo 5 sono europee. Un dato che purtroppo non rende giustizia al nostro impegno e ci deve spingere a reagire. Oggi che la concorrenza è globale, ma non ci sono regole globali per gestirla, dobbiamo ripartire proprio dallo spazio europeo della concorrenza. Nel nostro quadrante economico si dovrebbero moltiplicare quelli che vengono chiamati i campioni europei, cioè i players capaci di affrontare e dominare i mercati globali. È ora di fare un taglio netto e anche un tagliando di queste norme sulla concorrenza, che hanno fatto sì da traino alla crescita della nostra area economica europea negli ultimi vent'anni, ma regolamentano una realtà che oggi è molto, ma molto più complessa. Non sono più adeguate queste norme. Oggi lo schiacciamento delle piccole e medie aziende accade a norme invariate, con le grandi modifiche portate alle regole del gioco dei colossi del web, dalla concorrenza sleale, da illusione, evasione fiscale, da quella sul ribasso del costo del lavoro, dalla guerra commerciale, dall'invasione di beni sussidiati. Le nostre imprese già si difendono in un contesto molto asimmetrico. Non è più solo una questione di stazza. Anche per questo abbiamo bisogno di rivedere immediatamente le norme sulla concorrenza, partendo dal fenomeno digitale, come già aveva iniziato Margaret Vestager. La nostra nuova Commissione europea deve quindi ripartire da qui, perché non si tratta solo di concorrenza, ma di equità sociale. Chi genera valore in un territorio va tutelato, sia dalle disparità fiscali, sia dal rischio di diventare invisibili. La creazione di progetti di rilievo di interesse comune europeo, come la microelettronica e la filiera delle batterie green, può diventare il primo passo di una riflessione sulla creazione dei nostri campioni industriali. C'è bisogno della collaborazione tra imprese e tra stati, finalmente, per far diventare determinanti le nostre filiere innovative. E non si tratta, sì, di una riforma facile, ma non deve essere una scusa per alimentare rendite di deposizione. L'Europa ha bisogno di rendite da innovazione. E siamo impegnati a creare un sistema industriale che non venda più solo dei beni e dei servizi, ma beni e servizi che uniscano il profitto a uno scopo, quello di una società più giusta e inclusiva. Sappiamo che la gente non compra più solo ciò che produciamo, ma anche perché e come lo produciamo. E di questo nuovo sistema economico noi vogliamo essere i campioni. Vogliamo un'Italia che si faccia ascoltare in Europa e sia promotrice di una riforma del progetto di Unione Europea sempre più forte, competitiva e inclusiva. Vogliamo un'Europa che esporti bellezza, valori e progresso. E allora di cosa vuole essere campionessa la nostra Italia? Siamo al bivio tra l'Italia dei campioni di innovazione o di mobilismo. Possiamo essere il Paese campione di burocrazia o di competitività. Possiamo avere il primato di desertificazione sociale o di riattivazione dell'ascensore sociale. Ho detto all'inizio del mio discorso che oggi siamo un po' più nostalgici ed enfatici perché siamo al nostro ultimo convegno ed abbiamo il compito di lasciare un testimone importante a chi verrà dopo di noi, che avrà il dovere di continuare a difendere le battaglie che abbiamo vinto e quelle che ancora non abbiamo concluso, ma che avrà anche la responsabilità di continuare a credere in questo Paese e nelle sue potenzialità, con l'ottimismo della volontà che ci contraddistingue da sempre. Ci auguriamo che chi verrà dopo di noi veda meno propaganda e più concretezza, meno guerre mediatiche e più accordi per le imprese, meno tweet e più lavoro all'interno dei ministeri, ma soprattutto ci auguriamo che veda realizzati i sogni e le speranze di tutti quei giovani che, come noi, un giorno hanno pensato di intraprendere questo bellissimo ma folle mestiere che è fare l'imprenditore, dove ogni giorno si lavora con poche certezze sull'oggi, ma infiniti dubbi sul domani. Un mestiere però che ci ha insegnato una grande virtù, che da soli andiamo più veloci, ma insieme andiamo più lontano. Noi che siamo in questa sala non abbiamo in mano le redini del Paese, ma siamo parte di una grande discussione sul suo futuro. Siamo umili ma ambiziosi e siamo pronti a scrivere la storia dei campioni, l'unica che non inizia con c'era una volta, ma inizia con ci sarà domani. Grazie.